Processo bilanci falsi, tutto da rifare, è stata annullata con rinvio alla sentenza di assoluzione dell'ex sindaco Rostana Di Bello, del suo vice Michele Tucci e di altri sette imputati, fra ex amministratori, dirigenti e revisori dei conti del comune di Taranto, coinvolti nel processo sui bilanci falsi. Parliamo di Luigi Lubelli, Osvaldo Negro, Eugenia Carelli, Cosimo Orlando, Carlo Aprile, Vincenzina Cillo e Mauro Ingrosso. Per loro, prosciolti in appello nell'ottobre del 2010, è necessario un nuovo processo. La Corte di Cassazione ha infatti accolto i ricorsi dei procuratori generali della Corte d'Appello di Taranto, Ciro Salta Lamacchia, Antonella Montanaro e del legale di parte civile del comune, l'avvocato Eligio Curci. Il processo sarà dunque celebrato dinanzi a una diversa sezione della Corte d'Appello, e cioè davanti a quella di Lecce, ma sulla maggior parte delle ipotesi di reato, incombe, rischio, prescrizione, i nove imputati erano finiti alla sbarra con l'accusa di falso in atto pubblico per aver truccato i bilanci dell'amministrazione comunale negli anni che vanno dal 2001 al 2005. Secondo l'accusa, amministratori, dirigenti e revisori dei conti non inserirono nei bilanci consuntivi i debiti nei confronti delle aziende Amiu e Amat, un imbroglio per nascondere alla città la reale e disastrosa situazione finanziaria del comune. Secondo la Corte d'Appello di Taranto, il fatto non costituiva reato, per questo aveva assolto con formula piena gli imputati, ma è giunta a conclusioni opposte la Cassazione.